Proprio il giorno dell'asta dei bot, un'agenzia finanziaria internazionale boccia la nostra economia, governo e imprese insorgono questa speculazione, dice Monti, e anche l'Europa stavolta esprime i suoi dubbi. Almeno 200 le vittime del nuovo massacro in Siria, il più cruento dall'inizio della rivolta, donne e bambini tra le vittime, anche la Russia, chiede un'indagine. Sul regime si allunga l'ombra delle armi chimiche. A sei mesi dalla tragedia, l'isola del Giglio si è fermata oggi per ricordare le vittime del naufragio della costa Concordia, proseguono intanto le operazioni per la rimozione del relitto. Corsi specializzati per risolvere problemi di piccola e grande finanza, siglato dal forum delle associazioni familiari e da esperti bancari, un accordo per aiutare le famiglie a gestire le risorse in tempo di crisi. Riconosciute le virtù eroiche di padre Candido Amantini, storico esorcista della Diocesi di Roma, un uomo al servizio della Chiesa, dice il postulatore, oggi invicariato il via alla causa di beatificazione. Buonasera e vi ritrovate al TG2000. Cari amici, buonasera. Dunque, lo avete sentito dai nostri titoli, Moody's boccia l'Italia, ma gli effetti sui mercati sono stati contrastanti. Male lo spread, bene l'asta dei BTP triennali e la borsa di Milano. L'inflazione intanto non abbassa la testa. Giorgio Schiavoni. La bocciatura dell'Italia avrà un effetto limitato e la controprova è già arrivata oggi. Lo spread dei nostri titoli decennali è cresciuto di poco rispetto a ieri, mentre l'asta dei BTP triennali è andata bene con rendimenti in netto calo rispetto all'ultima volta. E se i danni sono stati ridotti per lo spread, non si sono proprio fatti sentire a Piazza Affari, che è anzi cresciuta quasi dell'1%. Ebbene, sono andate anche tutte le altre principali borse occidentali. Insomma, una retrocessione del nostro debito pubblico, che forse neanche merita la rida di reazioni venute da ogni parte contro Moody's e le altre agenzie di rating. Di peso però, senz'altro, quella di Bruxelles. Il commissario agli affari economici Olly Ren ha bollato la mossa di Moody's come inappropriata, visti gli sforzi messi in atto dal governo e dal paese tutto per rimettere i conti pubblici a posto. Sulla stessa linea le parole del Premier Monti dall'Aidaho, il quale si lamenta del fatto che l'Italia è virtuosa ma venga punita da Moody's. Il non-ministro dell'economia Grilli ricorda però che è necessario trovare altri 6 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'IVA. Un rincaro che farebbe salire ancora di più i prezzi. Oggi l'Istat conferma che a giugno l'inflazione ha accelerato, raggiungendo il 3,3% mentre i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza sono addirittura cresciuti del 4,4%. Un giudizio ingiustificato e forviante per il ministro Passera. L'Italia è più forte di quel che sembra, in secondo invece squinzi di Confindustria. Sono alcune insomma delle reazioni al declassamento del debito italiano da parte dell'agenzia Moody's. Occasione è l'assemblea dell'associazione dei costruttori edili che ha fatto il punto sulla crisi del settore. Ce ne parla Paolo Fucili. Il pessimismo di Moody's sulle finanze pubbliche del bel paese mette d'accordo per una volta governo e imprenditori. L'Italia non merita la sfiducia dei suoi creditori. Assemblea dell'associazione dei costruttori edili oggi è a Roma. Per il ministro Passera, l'agenzia di rating a stelle e strisce declassando di due gradini i titoli di Stato italiani. Non riconosce le azioni concrete che sono state prese e avviate. Non riconosce un impegno ormai dimostrato e solido nel gestire i nostri conti pubblici. Saranno i mercati da soli a riconoscerci i nostri meriti, afferma Passera. Gli fa eco il presidente di Confindustria, Squinzi, secondo cui il giudizio di Moody's... Non rappresenta veramente la competitività del nostro paese. Confindustria non rinuncia tuttavia a pressare l'esecutivo Monti sul fronte interno della pressione fiscale. Alzare liba, ricorda Squinzi, equivarrebbe ad azzerare un più 0,25% del prodotto interno lordo. Al Palazzo del Congresso e all'Eur, l'edilizia fa il punto sulla crisi nera del settore. Mezzo milione di posti di lavoro persi in quattro anni, meno 20% di compravendite immobiliari ancora nel primo trimestre 2012. Eppure ci sarebbero 19 miliardi di euro di crediti da riscuotere ancora, ricorda il presidente Ance, Buzzetti. Il viceministro alle infrastrutture, Ciaccia, ricorda in risposta agli 800 milioni di euro stanziati dal governo per il piano casa e parla di 46 miliardi di euro totali che il Cipe sbloccherà nell'arco del 2012 per opere pubbliche. Ultimo capitolo, l'alta velocità ferroviaria, dopo le voci rimbalzate ieri dalla Francia. A Parigi, assicura Passera, non c'è alcuna ipotesi in campo di venire meno agli impegni già presi sulla Torino-Lione. Tenere sotto controllo la situazione finanziaria familiare grazie ai consigli degli esperti, programmando entrate e uscite e distinguendo per esempio le condizioni dei differenti prestiti. Sarà possibile grazie al protocollo d'intesa sull'educazione finanziaria firmato oggi dai presidenti del Consorzio Patti Chiari, Filippo Cavazzuti, e del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti. Sentiamo Alessia Versa. Sapete leggere una busta paga, un estratto conto o un contratto di mutuo? No, eppure per il Forum delle Associazioni Familiari e per il Consorzio Patti Chiari saperlo fare significa saper gestire il bilancio di casa e quindi contribuire alla serenità di una famiglia. Per questo oggi è stato siglato un protocollo d'intesa che mira a tutelare ed incentivare attraverso corsi di formazione la propensione al risparmio etico, perché l'accumulo di soldi fino a se stesso non necessariamente produce armonia e spendere in modo compulsivo è solo l'altro volto dell'insoddisfazione all'interno delle mura domestiche. Ma in questi ultimi anni, soprattutto in questi anni di finanze, bolle speculative, moltissime famiglie hanno fatto scelte anche in ambito di investimenti che si sono rivelate poi una grande minaccia alla stabilità della famiglia. Diminuire dunque la vulnerabilità nei confronti dei mercati finanziari, diventando più consapevoli del progetto di vita intrapreso affidandosi nelle scelte economiche più delicate alle persone care. Alle famiglie aspetta essere consapevoli che un buon progetto di famiglia, oltre alla qualità della relazione di coppia, ha bisogno anche di consapevolezza economica. La finanza non è solo i soldi, la finanza è un problema di risparmio, è un problema di vedere il futuro e la famiglia è un problema di questi problemi. Intanto il forum delle famiglie si dichiara preoccupato per la scelta a Milano della giunta del sindaco Pisapia che ha approvato in commissione consigliare un testo per l'istituzione del registro delle unioni civili. A commentarlo è Francesco Belletti, presidente del forum. Un atto essenzialmente inutile per i milanesi, dice Belletti, come riconosciuto anche da alcuni membri della giunta, è confermato dal risultato deludente dei registri dove sono stati istituiti, ma finalizzato a sollevare un'avvertenza di carattere nazionale. Ed ora andiamo a vedere la situazione in Siria, insanguinata da una nuova strage in un villaggio di oppositori al regime, in particolare da Augusto Cantelli. Prima il martellante bombardamento, poi la violenta caccia l'uomo casa per casa, strada per strada, a colpi di pistola e coltello dai famigerati. Sciabia le milizie filogovernative, nessuna pietà per uomini, donne e bambini del villaggio di Tremse, per quello che rischia di diventare, se confermato con oltre 200 morti, il più sanguinoso massacro dall'inizio della rivolta siriana. Il regime smentisce, non siamo stati noi opera di terroristi, ma la repressione continua, abbiamo sentito almeno 100 esplosioni, raccontano gli osservatori ONU che si trovano nella provincia di Hama. Di fronte alla carneficina di Tremse, anche la Russia, da sempre al fianco dell'indifendibile alleato, chiede che venga fatta luce. Mosca tuttavia si guarda bene dall'appoggiare le richieste occidentali di una risoluzione delle Nazioni Unite di condanna al regime di Assad, regime che viene accusato anche di utilizzare bombe a grappolo e armi chimiche. Di fronte all'escalation di violenze, si contano 30 vittime anche in altre città del paese, appare sempre più spuntata la missione dell'inviato di ONU e Lega Araba, Kofi Annan, la spola del diplomatico tra New York, Damasco e Mosca, dove approderà lunedì prossimo, continua a non dare alcun risultato. Intanto, dal nunzio Vaticano a Damasco, Monsignor Zenari, un nuovo appello alla comunità internazionale a fare presto. Ed ora con Federico Plotti le altre notizie dal mondo. Pakistan è di almeno 7 morti e 14 feriti, il bilancio di un attentato avvenuto stamane nei pressi di Khetta, nel sud ovest del paese. Un ordigno è esploso durante un comizio del partito nazionale Awami, una delle principali formazioni politiche pakistane. Tra le vittime è anche un bambino, l'attentato non è stato ancora rivendicato. Afghanistan, la responsabile del dipartimento per gli affari femminili della provincia orientale di Legman, Anifa Sapi è stata uccisa oggi dallo scoppio di un ordigno, nell'attentato avvenuto nella capitale provinciale Mehtar Lam. Oltre alla donna è morto anche suo marito, mentre due suoi figli sono rimasti feriti. Nigeria, un kamikaze si è fatto esplodere in una moschea nel nord-est della città di Maiduguri, uccidendo 5 persone e ferendone 6. A renderlo noto sono state fonti militari. Italia, arresti domiciliari per Samuele Piccolo, vicepresidente del Consiglio Comunale di Roma, insieme a lui e agli arresti domiciliari anche il padre Raffaele, mentre in carcere è finito il fratello Massimiliano. I reati ipotizzati sono di associazione a delinquere e finanziamento illecito dei partiti. Nel frattempo il PDL lo ha sospeso a scopo cautelativo. E torniamo adesso a parlare della situazione in Nigeria, difesa dei cristiani perseguitati, devono essere inviate le forze di pace delle Nazioni Unite. E quanto chiedono alcuni deputati PDL che hanno presentato a tale scopo una mozione illustrata questa mattina in una conferenza stampa alla Camera. Prime firmatari e tre donne, Eugenia Roccella, Suad, Sbag e Fiamma, Niresta, indi, estrazione, cultura e fede religiosa diversa, proprio per sottolineare il valore simbolico della mozione. Che spiegano le tre deputate, non mira solo la difesa dei cristiani in Nigeria, ma la tutela della libertà religiosa. Sentiamo allora la riflessione di Eugenia Roccella. Si tratta di un'iniziativa ambiziosa perché sappiamo benissimo quanto sarà difficile mobilitarsi perché ci sia un intervento dei caschi blu dell'ONU, un'interposizione delle forze di pace. Però è l'unica cosa che possiamo chiedere per un intervento davvero efficace, cioè la difesa fisica, dell'incolumità fisica delle persone che vanno a messa o che si riuniscono a pregare. Non è un intervento parziale perché se ci fosse un intervento così forte, così importante in Nigeria servirebbe sicuramente anche per evitare che ci siano altre iniziative nella zona, che è una zona molto delicata, una zona dove Al-Qaeda sta ampliando il proprio raggio di azione. Quindi vi servirebbe a fermare sicuramente Al-Qaeda e a dare un alto là da parte del mondo civile. Ed ora ci spostiamo all'isola del Giglio dove a sei mesi dal tragico naufragio della costa Concordia gli abitanti dell'isola oggi hanno reso omaggio alle 32 vittime della nave con una serie di manifestazioni promosse dal Comune. Vediamo insieme. Il mare è calmo, un turista nuota, ma le sue bracciate non potranno andare oltre il limite segnato dalla corda di colore arancione scuro al di là del quale c'è ciò che oggi è diventato il nuovo sfortunato ospite delle acque che circondano l'isola del Giglio. Il gigante di ferro e ricordi è ancora lì, accasciato, piegato su di un fianco squarciato da una roccia, la stessa che il 13 gennaio scorso infierì sulla nave Concordia della costa Concordia. Era un venerdì, mancava poco alle 10 di sera quando ciò che fu avvertito come uno scossone tramutò una vacanza in una tragedia. 32 vittime, 32 vite spezzate per una manovra sbagliata e oggi, dopo sei mesi, i conti con il naufragio e il suo dramma non sono chiusi. Mancano ancora Maria Grazia e Ruben, gli ultimi due dispersi di un incidente del mare carico di troppe polemiche, ma scarno di precise verità. Tant'è che domani a Grossetto ci sarà un'altra... ...che finora hanno consegnato tasselli di un puzzle confuso e ancora incompiuto. Intanto, entro pochi giorni, dovrebbe essere completamente rimosso lo scoglio conficcato nel relitto. In questo momento stiamo staccando il primo pezzo, procedendo con dei buchi, con dei drill, dentro il cui poi andremo a mettere degli attrezzi di divaricatori, che quindi completeranno a spaccare lo scoglio in tre parti, di cui uno verrà donato al giglio come monumento per l'accaduto. E' affidata al sostituto procuratore Claudia Terracina l'indagine sulla turista australiana che potrebbe aver subito violenza da parte di un giovane tunisino, il quale ora è indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per violenza sessuale. La decisione del procuratore aggiunto Maria Monteleone, che ora, in accordo con il pubblico ministero Terracina, dovrà valutare la situazione e stabilire se debbono essere svolti ulteriori accertamenti medico-legali per comprendere qual è stato il reale svolgimento della situazione. Ed ora in Calabria a Catanzaro, dove le fiamme gialle con l'operazione Wind Farm hanno sequestrato il parco eolico di Isola Caporizzuto nel Crotonese. A gestirlo sarebbe stata una società controllata dalla potente cosca arena dell'Andrangheta. I particolari? L'Andrangheta non ha voluto rinunciare ad entrare nel ricco business delle energie alternative. La DDA di Catanzaro ha scoperto che uno dei parchi eolici più grandi della Calabria, quello di Isola Caporizzuto, con i suoi 48 generatori eolici, sarebbe stato costruito e gestito dalla cosca arena egemone nel Crotonese. Da qui il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza. Sono 31 le persone indagate a vario titolo per trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, oltre a reati urbanistici ed ambientali. Le indagini, che hanno portato ad un sequestro complessivo di beni per 350 milioni di euro, hanno interessato anche società con sede a San Marino, in Svizzera e in Germania. A tirare le fila dell'organizzazione ci sarebbe un dirigente del comune di Isola Caporizzuto, Pasquale Arena, 59 anni, nipote del boss Nicola. Dalle intercettazioni effettuate, gli inquirenti hanno scoperto che il parco era in procinto di essere ceduto. Siamo intervenuti proprio mentre era in atto il passaggio delle quote ad una società assolutamente estranea all'intera vicenda penale e quindi il trasferimento delle quote avrebbe di fatto impedito il loro sequestro e avrebbe imposto la necessità poi di andare alla ricerca del denaro oggetto del passaggio delle quote, il che avrebbe ritardato e probabilmente avrebbe compromesso assolutamente il sequestro. Incidente mortale sul lavoro, questa mattina la Doni Metalli di Viareggia Padova a perdere la vita a un operaio, Francesco Pagetta di 48 anni, che era a lavoro all'interno dello stabilimento. L'uomo si trovava nel piazzale della ditta per prendere un cumulo di scarti metallici di lavorazione quando è stato travolto da un camion in manovra. E un altro incidente costato la vita nel Savonese ad un operaio di 42 anni, Romolo Pezzoli, che si trovava al quarto piano di un edificio in costruzione e stava guidando in Abru con un telecomando. Da momento di disincagliare il carico è stato colpito ed è precipitato a terra. Cambiamo argomento. Più che raddoppiati in un anno gli embrioni crioconservati, che sono passati da 763 a più di 16 mila. In continuo aumento anche le coppie che ricorrono alla provetta, mentre cresce l'età delle donne che cercano un figlio in vitro. Questo il quadro che emerge dalla relazione annuale 2012 del Ministro della Salute sullo stato di attuazione della legge 40 del 2004, che regola per l'appunto la fecondazione artificiale e che è stata presentata oggi al Parlamento, contenente i dati relativi all'anno 2010. Sentiamolo. Un bambino nato ogni dieci concepiti è l'inquietante dato che emerge dal rapporto presentato dal Ministero della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione nel 2010 della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita. Il 2010 è stato il primo anno in cui è stata in vigore per 12 mesi la sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato la norma che imponeva la produzione di un massimo di tre embrioni con l'obbligo di impiantarli in un unico ciclo di trattamento e che ha consentito il congelamento degli embrioni prodotti per scongelarli secondo necessità. Nei 357 centri che praticano la fecondazione artificiale in Italia in un solo anno il numero dei concepiti congelati è più che raddoppiato ed è più che triplicato il numero dei cicli di trattamento in cui si è fatto uso di embrioni congelati. Il bilancio è stato di più di 113.000 embrioni prodotti di 16.280 embrioni congelati e di soli 12.506 bambini nati in 69.797 coppie che si sono sottoposte a tecniche di fecondazione artificiale. Nonostante il perfezionamento della tecnica rimane quel limite dell'embrione su 10 che viene a poter vedere la luce quindi la fecondazione artificiale rimane con tutta la sua negatività circa l'efficacia, il rapporto tra i costi e i benefici che se ne può determinare. Questo non è superato dal fatto che ci sono state indubbiamente più gravidanze legate alla fecondazione artificiale ci sono stati indubbiamente più nati ma il costo rimane comunque negativo è soltanto un embrione su 10. Quindi la negatività della fecondazione artificiale rimane tutta e anche aumentata proprio grazie al fatto della possibilità del congelamento degli embrioni. L'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, ha incontrato nel pomeriggio una delegazione delle lavoratori ex Vagonlitz. La visita spiega una nota della diocesi torinese risponde al desiderio di mantenere alta l'attenzione della Chiesa e i problemi del mondo del lavoro e per conoscere da vicino le diverse realtà lavorative del loro territorio con particolare riferimento a quelle più in difficoltà. Si è aperto il processo di canonizzazione in vicariato di padre Candido Amantini il frate passionista che ha svolto dagli anni 60 agli anni 90 alla propria opera di padre spirituale e di esorcista della diocesi di Roma presso la Scala Santa. Sentiamo. Queste sono le immagini inedite di padre Candido Amantini il famoso esorcista di Roma presso la Scala Santa. Qui in questo santuario pontificio padre Candido per 30 anni ha esorcizzato in diretto prechiere di liberazione. Come si vede dalla data di questo filmato eccezionale padre Candido morirà esattamente un anno dopo il 22 settembre del 1992. Questa mattina in vicariato si è ufficialmente aperto il suo processo di beatificazione. Religioso passionista padre Candido per via della sua nomina come esorcista ufficiale della diocesi del Papa era molto apprezzato ogni giorno fin dalle 3 del mattino i fedeli aspettavano di incontrarlo fuori la Scala Santa. È una grande gioia e penso che sia gioia anche di tutti i passionisti l'ordine religioso al quale apparteneva appunto padre Candido grande gioia per tutta la Chiesa e grande gioia per noi esorcisti che per la prima volta dopo secoli un nostro rappresentante inizia una causa di beatificazione. Molti testimoni riferiscono che le sue benedizioni erano forti ed efficaci che era un uomo di preghiera attività cui dedicava parecchie ore anche durante la notte moltissimi affermano poi che aveva il dono del discernimento capiva subito chi aveva realmente bisogno. Quanti anni è stata con padre Candido? Dunque dal 1987 fino a che è morto. Quanta gente veniva da lui? Tanta. Con disturbi demoniaci? Sì. E padre Candido dopo che faceva il rito come usciva dalla stanza? Normale. Lei crede al diavolo? Sì. Purtroppo si è passata con tanti disturbi. Il nostro telegiornale finisce qui ma se volete potete rivederlo sul nostro sito tv2000.it Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti. Arrivederci.